ciao ragazze mi è appena arrivato il pacchettino di perline bijou ho fatto un piccolo ordine con i black friday proprio un ordine piccolissimo perché in realtà dovevo prendere pochissime cose e ho approfittato con con i black friday con con gli sconti e ho preso da loro perché mi occorrevano delle rocaille io sono utilizzo tantissimo le rocaille unici zero le duragot galvanizzate gold yellow gold ed è un colore che diciamo una bustina singola costa tantissimo e da loro avevo visto che c'era un offerta sui pacchi quelli grandi e quindi ho preferito fare l'ordine da loro proprio per questo motivo allora vi faccio subito vedere quello che ho preso vi dico che non ho speso tantissimo perché alla fine ho speso 26 euro 80 compresa la spedizione quindi ho fatto proprio un ordine piccolissimo però sono molto contenta perché sono riuscita a prendere diverse cose che mi occorrevano ho preso ho approfittato ho preso anche delle perle swarovski perché come sappiamo tutti gli swarovski dal prossimo anno non verranno più realizzati e quindi ho approfittato e ho preso anche delle perle allora vi faccio subito vedere quello che ho preso super imballato ok eccoci qua proprio delle piccole cose allora oltre a prendere il super paccozzo come vi dicevo di rocaille mi yuki e alla fine mi pare loro me l'hanno messe divise e calcolate sono tutti i pacchetti quelli classici da 10 grammi quindi alla fine ho preso 50 grammi e il prezzo era di se non sbaglio scontato sui 10 euro e sto anche vedendo che me l'hanno mandata un'altra come omaggio se non sbaglio comunque un colore forse è un pochino più scuro forse è lo champagne comunque gratissimo proprio allora ho preso cinque colorazioni di duragot galvanizza yellow gold come vi dicevo poi ho preso gli aghi in questo caso preso gli aghi questi della tulip in in realtà li volevo già prendere da un po perché io sto usando gli aghi della beading che per carità vengono pochissimo però spesso mi si cioè mi si contorcono troppo e non ci riesco più a lavorare oppure ho notato che dopo un po' la cruna mi si diventa sottile non riesco più a infilarci il filo quindi è vero che costano di meno però magari poi li devo andare a buttare prima allora ho pensato magari di spendere un pochino di più e di provare questi della tulip che ho visto dalle recensioni sono molto buoni ho preso la misura 11 e questi stavano 4 euro e 50 hanno anche noto questa bellissima confezione in modo tale che non si perdono vi farò poi sapere come sono questo è l'ago beh sì sono più rigidi di quelli della beading poi ho preso degli anellini aperti che mi servivano per finire una creazione questi sono anellini in acciaio aperti platino quindi degli anellini piccolini classici poi ho preso delle perle come vi dicevo delle perle swarovski e iridescent dark blue in realtà diciamo volevo fare un ordine un po' più consistente e prendere dei rivoli swarovski però alla fine diciamo ho desistito e ho pensato di farlo magari più in là e ho preso solo queste cosine che mi occorrevano poi ho preso sempre delle perle swarovski e le headberry da 4 mm anche questo è un colore molto bello poi ho preso dei rivoli swarovski stupendi majestick blue questi mi sono lasciata tentare veramente poi se non sbaglio i rivoli stavano in offerta perché la coppia di solito viene 2 euro e 20 se non mi ricordo male c'era un'offerta poi sì comunque c'era il 15 per cento finale di sconto su tutto quanto quindi alla fine io ho risparmiato lo sconto sui 2 euro alla fine il colore è bellissimo proprio poi ho preso delle bridge chalcarava red beh anche queste mi sono lasciate tentare sul rosso veramente belle e infine loro mi hanno mandato questo omaggio che vi dicevo prima che sono delle miyuki sicuramente e magari li chiederò se sanno dirmi che colore è perché messo a confronto il colore è più scuro quindi dovrebbe essere o lo champagne o comunque una tonalità un pochino più scura perché io avevo anche la duracot galvanizzate gold però era più chiara di questa qua quindi non so che tipo di colorazione potrei essere però comunque un omaggio che mi piace tantissimo e niente ragazze io vi saluto vi mando un bacione ci vediamo presto con un altro video e nel prossimo vi farò vedere le creazioni che ho realizzato ultimamente